Io penso che sia una questione per tecnici che vada affrontata molto seriamente, però bisogna anche non farsi dettare il programma da Greta Thunberg che è una ragazzina. Allora se noi parliamo di formazione vorrei ricordare che Greta Thunberg ha lasciato la scuola per andare in Barcavela con il principe di Monaco, non è una grande formazione ecologica, è una transazione velistica più che ecologica. Fammi dire una cosa sull'argomento che conosco, che è quello delle auto. Allora, l'auto elettrica al momento è a livello di inquinamento non meno impattante di un'auto Euro 7 o Euro 6. Questa è la verità, te lo dicono tutti, perché le batterie non le riesce a smaltire, produrre il litio, fa dei danni e vengono sfruttati i bambini nel terzo mondo eccetera. Quindi queste sono stupidaggini. Noi stiamo ammazzando un settore nel quale eravamo leader, quello dell'automobile, per approdare al nulla, neanche alla diminuzione dell'infinamento. Semplicemente è un disagio maggiore degli automobilisti che ogni 200 km devono fermarsi e carriere. Sì, ancora ovviamente c'è una rete insufficiente di colonnine, certo. No, 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 un attimo, Muroni, mi faccia chiedere a bombardire una cosa perché devo lasciare la linea.